Dove ci si scrive al Partito di Conte? Guardi, in questo momento avrà difficoltà a farlo perché non è neppure un progetto di Partito di Conte. Non c'è neppure il progetto. Ma perché? Non lo so, e delle volte, addirittura da un momento all'altro, mi aspetto qualche indirizzo. E' una cosa che viene prospettata così concreta che io rimango sorpreso e meravigliato. Ma non è l'unica meraviglia. Sentate, arriviamo ai dolori invece dopo i sorrisi.